Musica Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Apriamo con la coronaca. Quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere per traffico di sostanze stupefacenti e il bilancio di un'operazione condotta dalla squadra mobile di Teramo con il coordinamento del PM Greta Aloisi. Ad illustrare questa mattina quanto accaduto il procuratore capo Antonio Guerriero e il vicequestore Gennaro Capasso. Quattro ordinanze di custodia cautelare, nove le persone coinvolte per traffico di sostanze stupefacenti in un'area vasta della provincia di Teramo, comprendente oltre al capoluogo i comuni di Corropoli, Controguerra, Santomero, Mociano Sant'Angelo, Bellante e Martinsicuro da parte di soggetti stranieri, italiani e di etnia Rom. Operazione della squadra mobile di Teramo in collaborazione con la procura iniziata l'estate scorsa e che aveva già portato a sei arresti. Complissimamente un'indagine che riguarda nove persone di cui quattro sono stati oggi attinti dalla misura custodiale in carcere per un traffico rilevante di sostanze stupefacenti, ascisce e cocaina per quantitativi rilevanti che riguardava diversi comuni del territorio della provincia Teramana provocando un notibile allarme sociale tra la popolazione. Nazionalità dei personaggi, abbiamo detto albanesi, italiani, marocchini. Naturalmente questo è uno dei tanti filoni di indagini che noi stiamo sviluppando e chiaramente speriamo che porterà ulteriori risultati investigativi rilevanti. Queste indagini sono state svolte con l'ottima collaborazione della squadra mobile della questura di Teramo e quindi che ci ha sopportato attraverso pedinamenti, intercettazioni e quant'altro che hanno consentito di svelare questo vasto spaccio di sostanze stupefacenti che coinvolgeva non solo diversi comuni ma numerosi consumatori giovani che ne facevano uso. Identificati inoltre i fornitori di nazionalità albanese e marocchina. Abbiamo sequestrato oltre un chilo e mezzo di ascisce, 200 grammi di cocaina, comunque il giro era anche più vasto di quello che abbiamo sequestrato. Orrore in Inghilterra. Una giovane donna di Martinsicuro, Samira Lupidi, 24 anni, è stata arrestata a Bedford, in Inghilterra, per l'omicidio delle due figlie, Evelyn Lupidi, 3 anni, e Jasmine Weaver, di 1 anno. Le due bimbe sono state uccise, così riferiscono le fonti inglesi a coltellate martedì scorso. Per il duplice ferato omicidio è stata arrestata la madre che si è autoaccusata. La donna ora si trova in carcere. Una vasta coltivazione di canapa indiana, con un centinaio di piante, alte anche due metri, per un peso complessivo di 300 chili e che avrebbero fruttato circa 50 mila dosi, per un valore di mercato tra le 400 e le 500 mila euro, è stata sequestrata dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Vasto e che ha portato all'arresto di tre persone a finire in carcere con l'accusa di lecita coltivazione di sostanze stupefacenti. Finalizzata al traffico, donato Colombaro, 33 anni, mentre domiciliari i cognati Nicolino Monaco, 49 anni, e Giuseppe Felice, di 31, tutti residenti a San Salvo. Le piantagioni erano state allestite in località Bosco Mottice, a San Salvo, tra i vigneti di alberi di pesche e olive. Tutte le operazioni di coltivazione sono state filmate dalle telecamere e collocate dalla polizia. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Nessuna tangente. Si sono difesi così nell'interrogatorio di garanzia di oggi l'ex vice sindaco Roberto Riga e Massimo Mancini, vice presidente dell'Aquila Calcio, in merito a presunte tangenti nei lavori di ricostruzione dell'oratorio Don Bosco. Daniela Rosone. Nessuna cessione di soldi cash all'ex vice sindaco del comune dell'Aquila Roberto Riga è tutto regolare in merito all'affitto dell'appartamento all'imprenditore Massimo Mancini, vice presidente dell'Aquila Calcio. Così illegali di Massimo Mancini, Luca Marafioti, dopo l'interrogatorio di garanzia di oggi. Anche l'avvocato difensore di Roberto Riga, Luciano Bontempo, ha negato le accuse rivolte al suo assistito, giustificando il movimento di denaro come un prestito fatto da una persona amica in un momento di difficoltà economica. Assolutamente, ha detto, nessuna tangente. Interrogatori Lampo questa mattina per i due indagati che sostanzialmente hanno respinto al mittente tutte le accuse. I due, lo ricordiamo, sono finiti a domiciliare nell'inchiesta della Procura della Repubblica del Capoluogo su presunte mazzette nella ricostruzione post-sisma. La nuova indagine coinvolge anche altre quattro persone, tra cui l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli, all'epoca dei fatti titolari dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, indagato a piede libero per abuso d'ufficio, in concorso con l'allora dirigente del settore ricostruzione privata del Comune dell'Aquila, Vittorio Fabrizi. Le indagini ruotano intorno alla giudicazione del complesso dell'Opera Salesiana, un affare da 28,5 milioni di euro, per il quale Riga si sarebbe speso per favorire la ditta Mancini, secondo le accuse. Il processo Grandi Rischi è arrivato oggi in Corte di Cassazione a Roma, dove è ancora in corso. La Procura Generale ha chiesto le conferme delle assoluzioni per sei dei sette componenti la Commissione che ebbe l'incarico di valutare le scosse di terremoto a pochi giorni, dal 6 aprile del 2009. La Procura invece ha chiesto la condanna a due anni per Bernardo De Bernardinis. Paolo Renzetti. Confermare la pena a due anni di reclusione inflitta in appello all'ex vice capo del Dipartimento della Protezione Civile Bernardo De Bernardinis, l'unico componente della Commissione Grandi Rischi, che in secondo grado è stato condannato per omicidio colposo e lesioni in relazione alle rassicurazioni ritenute infondate date alla popolazione dell'Aquila alla vigilia del terremoto del 2009. Lo ha sollecitato il sostituto procuratore generale di Cassazione Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto alla quarta sezione penale della Suprema Corte di rigettare il ricorso dell'imputato per il quale i giudici d'appello avevano disposto la sospensione della pena e la non menzione. Secondo il procuratore generale, soli effetti civili vanno accolti alcuni ricorsi di parte civile relativi al crollo della casa dello studente presentati nei confronti dell'ex vice capo della protezione civile. Per questo Fodaroni ha chiesto che venga celebrato un nuovo processo civile sulle richieste di risarcimento. Sempre il sostituto procuratore generale di Cassazione Maria Giuseppina Fodaroni ha chiesto la conferma delle assoluzioni pronunciate in appello per sei dei sette componenti della Commissione Grandi Rischi imputati per omicidio colposo e lesioni. Un flash mob per chiedere giustizia per le vittime del terremoto dell'Aquila è stato organizzato questa mattina proprio da alcuni familiari delle vittime del sisma che il 6 aprile 2009 provocò 309 morti. Un lungo stricione è stato esposto questa mattina nei giardini di Piazza Cavour proprio davanti all'entrata della Corte con suscritto contro chi ha rassicurato invece di allarmare contro un sistema malato che protegge se stesso. Chiediamo giustizia. Al flash mob ha partecipato anche un gruppo di persone che indossano magliette bianche con la scritta rassicurato. Questa mattina nella sede della Prefettura di Pescara si è volto un seminario promosso dall'Automobile Club di Pescara nel quale sono stati approfonditi i dati sugli incidenti stradali in Abruzzo nel 2014. Francesca Romana Testi. L'Istat stila un rapporto sugli incidenti stradali del 2014. Si parte dal dato nazionale dove ne sono stati contati 177.000 con 3.381 decessi. Rispetto all'anno precedente si registra una diminuzione del 2,5%. Il rallentamento significa che purtroppo il fenomeno sta ripigliando vigore. Se invece guardiamo il dato riferito al territorio abruzzese vediamo che il calo è più sostenuto. Gli incidenti stradali nel 2014 rispetto all'anno precedente sono diminuiti del 4,8% e i feriti sono diminuiti del 4,9%. I dati regionali invece delineano un quadro che vede il maggior numero degli incidenti sulle strade urbane con incidenti più gravi invece su quelle extraurbane. Il periodo di maggior concentrazione è quello primaverile-estivo. Gli orari invece dimostrano che gli incidenti più gravi avvengono la mattina dalle 5 alle 7 e che i giorni più pericolosi sono il venerdì e il sabato in cui si registra il 44% degli incidenti notturni tra le cause maggiori, la velocità, la distrazione e il mancato rispetto delle norme stradali. Nel 2014 abbiamo avuto 1.107 incidenti con 41 morti e soprattutto l'indice di mortalità che preoccupa. Le strade su cui sono avvenuti questi decessi, purtroppo questi incidenti gravi soprattutto oltre a tratti dell'autostrada adriatica la statale 16 adriatica, la statale 17, la Tiburtina Valeria, strada numero 5 e anche l'81. I comuni interessati soprattutto il comune di Ortona, il comune dell'Aquila, Giulianova e anche il comune di Vasto. Abbiamo notato anche un aumento dell'incidentalità nei mesi estivi in provincia di Teramo quindi sicuramente legata ai flussi turistici. Passiamo ora alla politica. Il Movimento 5 Stelle con la consigliera Sara Marcozzi ha depositato una proposta di legge per dire stop agli incendi editori nella nostra regione. Vediamo. È una legge molto semplice, cioè andiamo a modificare quello che è il vigente piano regionale dei rifiuti che risale al 2007 perché questo governo regionale non ha ancora approvato il nuovo limitando e quindi escludendo la possibilità di impianti di incenerimento sul nostro territorio. È una legge importante in difesa dei cittadini dalle politiche energetiche del governo Renzi che sono preistoriche, mi viene da dire. È una legge importante perché è chiaro che in un paese moderno, in una regione moderna incenerire rifiuti non è più accettabile. Abbiamo tutte le conoscenze scientifiche, tecniche per evitare l'incenerimento che gli scienziati e gli studiosi ci dicono essere dannoso per la salute umana per cui noi crediamo che mettere le mani avanti prima dell'approvazione del nuovo piano regionale e lanciare un segnale a questo governo regionale sia importante per i cittadini. C'è un rischio della costruzione di nuovi inceneritori nella nostra regione? C'è una possibilità. Io in agosto, come ricordavo, ho lanciato questo allarme per cui è evidente che il governo Renzi sta pensando a queste ipotesi di gestione dei rifiuti che secondo noi sono assolutamente antiquate e tutelano né l'ambiente e né la salute dei cittadini. Per cui il rischio c'è, però adesso siamo in una fase assolutamente preliminare per cui mettiamo le mani avanti, diciamo no agli inceneritori, non succederà come ombrina che ci diranno che siamo arrivati troppo tardi. Adesso siamo in tempo per non farlo e chiediamo al Presidente D'Alfonso di non fare gli inceneritori in Abruzzo. La filovia Pescara-Montesilvano e le problematiche connesse all'individuazione di un nuovo vettore sono state al centro di un tavolo di lavoro che il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha presieduto oggi a Pescara in regione. Un confronto aperto che ha visto tra gli altri la presenza del Sindaco, del Capoluogo Adriatico, Marco Alessandrini, del Vice Sindaco, Enzo Del Vecchio, del Consigliere regionale delegato ai trasporti, Camillo D'Alessandro, del Presidente di TUA, Luciano D'Amico, dei tecnici della Regione e dei rappresentanti di associazioni di cittadini, tra cui carrozzine determinate. D'Alfonso ha voluto fare un'operazione verità sulla vicenda che vede in primo lotto, il primo lotto dell'opera ancora bloccato dopo il fallimento della società che avrebbe dovuto fornire i mezzi di trasporto lungo l'attuale tracciato della strada parco. Sono convinto, ha dichiarato il Consigliere D'Alessandro, che esista una soluzione che salvaguardi sia la copertura finanziaria che le rigidità contrattuali senza tralasciare l'esigenza dell'utenza di Pescara a Montesilvano e dell'intero comprensorio e di avere un vettore che soddisfi la domanda di spostamento. Domanda che esiste, pone la necessità di un parcheggio di scambio a Montesilvano, evitando che ogni giorno, solo per esigenze scolastiche, entrino a Pescara circa 80 autobus di studenti, ovvero circa 4.000 persone. L'indirizzo prevalente emerso oggi è quello di individuare un nuovo vettore alternativo a quello previsto originariamente dalla gara, ovvero un vettore diverso da quello elettrificato. E con la nuova bozza di legge è possibile anche in Abruzzo partecipare allo svolgimento delle funzioni regionali. Vediamo. Anche in Abruzzo i cittadini potranno partecipare alle attività della regione, con la nuova bozza di legge dal titolo Disposizioni, la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali, che ha l'obiettivo di coinvolgere i soggetti sociali organizzati in forme democratiche nell'elaborazione e nella formazione delle politiche regionali. In sostanza i cittadini potranno anche attraverso una piattaforma online esprimere la loro partecipazione nelle decisioni importanti come l'istituzione di una legge. In concreto cosa possono fare i cittadini? Possono partecipare attraverso una piattaforma informatica che verrà gestita dalla direzione generale mediante il proprio ufficio relazioni con il pubblico, alla formazione delle leggi e di altri atti di carattere provvedimentale dell'Aggiunta regionale. Parliamo ora di impresa. Il direttore di Confartigianato Chieti, Daniele Giangiulli, considera ancora negativo il momento per le imprese abruzzesi anche se gli indicatori del nuovo anno sembrano indurre ad un cauto ottimismo. Ascoltiamo. Al di là dei numeri i dati sono fortemente negativi per quanto riguarda l'accesso al credito. Proprio qualche giorno fa abbiamo diffuso a livello regionale la nostra nota dove colloca l'Abruzzo, ultima regione d'Italia in termini di erogato di finanziamenti all'artigianato, quindi alle piccole imprese. Abbiamo registrato in questo ultimo anno un meno 8%, ma il dato proprio negativo è che sono otto trimestri in cui il dato è sempre negativo, quindi c'è una difficoltà proprio tangibile e riscontrabile dai nostri imprenditori per quanto riguarda le politiche dell'accesso al credito. Su questo adesso stiamo incalzando la regione perché non è più tempo di tergiversare, abbiamo la necessità di avere una boccata di ossigeno subito ai nostri consorsifili che di fatto quotidianamente stanno sul fronte per sostenere l'accesso al credito delle piccole imprese e soprattutto per dare una risposta ai tanti imprenditori che continuano a vedersi negate le richieste di finanziamento tramite le banche. Prospettive per il nuovo anno? Dei segnali incoraggianti si intravedono, è chiaro che l'aspetto principale è la tassazione, quindi a mio avviso per far ripartire l'economia c'è necessità di ridurre la pressione fiscale, non con operazioni spot tipo i bonus assunzionali o altre cose di questo tipo, ma è necessaria una fiscalità di vantaggio alla portata di tutte le imprese, solo così riusciremo a far ripartire l'economia, a rendere la nostra economia e il nostro tessuto imprenditoriale a renderlo competitivo e appetibile. Cambiamo decisamente, argomento, un panino a chilometro zero per gli studenti delle scuole pescaresi, un progetto di buone pratiche alimentari di Campagna Amica della Coldiretti che ha scelto il liceo Misticoni Belissario di Pescara. Vediamo. Panino a chilometro zero, Campagna Amica sceglie le scuole, ha scelto il Misticoni di Pescara per questa iniziativa, siamo con la professoressa Luisa Maggiore per presentare questa iniziativa oggi una bella giornata con questi ragazzi in fila a prendere questi panini a chilometro zero. Sì, una giornata che dà praticamente un segnale concreto di un'iniziativa che prende la nostra scuola, che ha voluto incontrare Campagna Amica per proporre un'iniziativa ai ragazzi, un'iniziativa culturale, di tipo culturale che passa attraverso l'alimentazione perché l'alimentazione rappresenta oggi soprattutto cultura e con cultura intendevo proprio questo, cioè il fatto di sapere cosa si mangia, l'origine dell'alimentazione e l'alimentazione a chilometro zero che ci porta a conoscere i luoghi, le provenienze del cibo che consumiamo che arriva sulle nostre tavole. Questi ragazzi avevano perso la capacità di conoscere ciò e noi vogliamo aiutarli a ritrovare le loro origini e la loro cultura appunto. Spieghiamo un attimo questo panino a chilometro zero perché è fatto da determinati ingredienti e prodotti. Sì, abbiamo questi panini a chilometro zero, cosa vuol dire? Intanto partiamo dalle farine, sono farine particolari autoctone della zona, quindi farina solina per esempio, farine integrali con un basso indice glicemico, prosciutto che viene sempre dalla nostra zona, insalate, formaggi come ricotte, formaggi che i nostri ragazzi non conoscono più perché oramai sono abituati a prodotti preconfezionati, quindi come bibite alternare alle bibite gassate del buon latte, dell'acqua, quindi ecco rieducare i nostri ragazzi attraverso un'alimentazione che apparteneva ai nostri genitori, ai nostri nonni e che nel volgere di pochi lustri insomma è stata dimenticata e rimossa. Presentato il piano olivicolo nazionale, le nuove opportunità per l'agricoltura abruzzese, se ne è parlato in un convegno svoltosi ieri a Loreto Aprutino. Antonio Recanati. I primi risultati della campagna olivicola e le prospettive per il futuro dell'olivicoltura abruzzese alla luce del neonato piano olivicolo nazionale, ma anche la geografia delle imprese e le buone pratiche per produrre un olio sempre più di qualità, in linea con le esigenze del consumatore. Questi gli argomenti trattati nel convegno, il piano olivicolo nazionale, le nuove opportunità per l'agricoltura abruzzese, promulso da Coldiretti Abruzzo in collaborazione con la cooperativa Bruzoleum e l'associazione delle cooperative olivicole Unaprol che si è svolto ieri a Loreto Aprutino. Il piano prevede cinque azioni fondamentali, la prima in assoluto è quella della concentrazione del prodotto, quindi forza al credito e alle cooperative, il secondo è quello di ristrutturazione degli oliveti e quindi anche delle strutture, ma poi grande forza alla ricerca per poter poi capire quali sono i limiti di questo settore ed infine promozione perché l'anno passato che è stato l'anno orribile per il nostro settore riconquistare quelle quote di mercato che purtroppo per volontà divina noi abbiamo dovuto perdere per forza. Un'occasione per tracciare lo scenario di un settore importantissimo per l'economia regionale alla luce delle novità introdotte dal piano olivicolo nazionale. Non illudiamoci, non è che attraverso il piano olivicolo, il PSR, risolleviamo le aziende. Le aziende si risollevano se siamo in grado di fare dei progetti concreti, dei progetti con dello sviluppo a largo raggio che sappia guardare non soltanto le realtà locali ma le realtà internazionali. È un piano che prevede circa 32 milioni di euro a livello nazionale ed è previsto soprattutto per l'innovazione tecnologica e per gli impianti nuovi, di oliveti nuovi e di ristrutturazione dei oliveti obsoleti per aumentare la produzione. Bisogna muoversi altrimenti non ci sarà mai quell'azione di cui ormai si richiede per la giusta commercializzazione e comunque per la valorizzazione del prodotto. Apre a Teramo il Kairos Fab Lab, un laboratorio nuovo e innovativo già a Kairos Centro Giovani, realizzato grazie al contributo della Fondazione Tercas all'aiuto del Vescovo di Teramo e Atri, Monsignor Michele Seccia e alla Consulenza di Fondazione Mondo Digitale di Roma. Vediamo. Il Kairos Centro Giovani si rinnova con il laboratorio Kairos Fab Lab, una palestra dell'innovazione aperta ai giovani dove troveranno spazio strumenti quali stampanti 3D, laser scanner, elettronica fai-da-te e robotica. Una piattaforma didattica innovativa in cui gli allievi possono trasformare in realtà quanto hanno ideato, modellato e progettato digitalmente sviluppando competenze sempre più importanti per il mondo del lavoro. Una palestra dell'innovazione realizzata grazie al contributo economico della Fondazione Tercas, alla Consulenza di Fondazione Mondo Digitale di Roma e all'aiuto del Vescovo di Teramo e Atri, Monsignor Michele Seccia. Il luogo messo a disposizione per i giovani della città, adolescenti, un po' più adulti, eccetera, che intendono utilizzare in un modo saggio e utile il tempo libero per continuare ad apprendere qualche cosa. E qui non trovano solo libri di carta, trovano persone disposte non solo ad accoglierli ma anche a continuare il percorso scolastico, ad approfondirlo, insomma a poter fruire di strumenti come quest'ultima tecnologia informatica grazie a coloro che presteranno la loro opera ma anche che hanno permesso attraverso il finanziamento di aprire nuovi orizzonti che magari i ragazzi cominciano a studiare, a conoscere a scuola o attraverso gli amici e qui hanno a disposizione. Speriamo che anche questo sforzo, questo impegno ottenga degli ottimi risultati proprio a favore della gioventù. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, andiamo a vedere insieme quali sono state le disegnazioni arbitrali per la quattordicesima giornata di campionato di Serie B domani alle 20.30 allo Stadio Adriatico Cornacchia. La partita tra Pescara e Avellino sarà diretta da Ross di Pordenone, mentre sabato alle ore 15, in Tella a Lanciano, sarà arbitrata da Abbattista di Molfetta. È allenamento a porte chiuse questo pomeriggio per i biancazzurri, in vista della gara con l'Avellino di domani, previsti rientri contro gli Irpini di Verre, Mandragora e Fornasier che sostituirà l'infortunato Campagnaro. Noi andiamo ad ascoltare nel servizio il tecnico Oddo. Noi siamo una squadra votata all'attacco che cerca sempre di fare il suo gioco, di proporre le sue idee di gioco e siamo bravissimi a fare questo. Ci siamo resi conto durante questo cammino fino a questo punto che ci sono tante squadre che anche per bravura non ti consentono di fare il tuo gioco e allora a volte non devi andare per inerzia e consentire agli altri di farti fare quello che non vogliono farti fare, ma devi anche saperti adattare a fare un certo tipo di gioco per poi portarti a fare quello che vuoi tu. E quindi per forza di cose deve essere una squadra più matura sotto questo punto di vista. Abbiamo fatto dei passi avanti a Como, nel senso che non abbiamo fatto sicuramente una grandissima prestazione sul piano del gioco, ma abbiamo fatto una grandissima prestazione sul piano della compattezza, dell'unione di gruppo e raggiungendo un risultato secondo me importantissimo. Se noi consideriamo che siamo quinti, ma a un punto, a due punti, a tre punti abbiamo tante squadre dietro, vuol dire che tutte si possono inserire. Io credo che ci sono squadre che abbiano ottimi organici anche per poter ambire a lottare per posizioni più avanzate. Una di queste è sicuramente l'Avellino. L'Avellino ha, secondo me, una grande squadra. Tanti giocatori bravi. Se noi andiamo a vedere domani l'Avellino, credo che abbia uno dei potenziali più forti davanti. Credo che saranno abbastanza compatti e sfrutteranno un po' le loro caratteristiche, sono la velocità, l'attacco alla profondità. Queste sono le loro doti migliori. Tante volte si vedono dalle partite che riveli si prendono degli spunti in positivo e in negativo, quindi ci si può aspettare di tutto. Ma come dico sempre io, dobbiamo essere noi bravi a capire le letture della partita, ma soprattutto a cercare di fare quello che sappiamo fare noi. E la Virtus Lanciano, dopo l'allenamento di questa mattina a San Buceto, è partita alla volta della Liguria. Contro la Virtus Sentella saranno assenti Amenta, Ferrari e Turchi. Ascoltiamo nel servizio il tecnico D'Aversa. Mister D'Aversa, la certezza rimane il progresso nel gioco? Sì, sicuramente, però non basta. Quindi ci auguriamo che oltre la prestazione iniziamo a portare a casa qualche punto che è importante per la classifica. Domani è la partenza, che vigili è? Sì, domattina faremo un allenamento a San Buceto, dopodiché partiremo per direzione Chiavari, dove ci auguriamo di ritornare con un sorriso, il che significa avendo fatto il risultato. Virtus Tosta, quella Ligure. Sì, stanno facendo benissimo, sono otto partite che comunque fanno otto risultati consecutivi. È chiaro che tutte le partite sono difficili, andiamo in un ambiente, sappiamo sia in situazione ambientale che del campo, però abbiamo dimostrato di far bene anche su altri campi, l'unica cosa da migliorare è concretizzare un po' quello che facciamo. L'atteggiamento tattico sarà quello visto nell'ultima partita? Vediamo, è chiaro che bisogna ancora analizzare un po' il sito della scuola avversaria, però bene o male credo che stravolgimenti non ce ne sono, perché comunque stiamo facendo bene e è anche giusto dare un seguito a quello che stiamo facendo. Peccato per Ferrari Amenta, out, Paghera rientra. Sì, sono due giocatori importanti che in questo momento non possono venire con noi, è chiaro che però sicuramente chi andrà in campo al loro posto lo sfigurerà e vorrà dimostrare appunto che sono importanti uguali, ma in un campionato penso che l'importanza di una cosa è appunto questo momento in cui ci sono delle assenze, non far pesare queste assenze. Che Lanciano ha chiesto ai suoi? Sì, ma è quello di continuare a migliorare perché sotto quell'aspetto non dobbiamo mai fermarci, ma soprattutto di iniziare un po' a concretizzare, ecco perché è vero sì che bisogna vedere la partita anche con il cortone con un aspetto positivo, cioè nel senso che si è recuperata una partita, però è anche vero che lì dove magari sul campo meriti qualcosa in più è l'ora di portarla a casa. Andiamo ora in Lega Pro, emergenza difesa in casa Biancorossa, la vigilia della gara di Rimini senza speranza per Rotta e Altobello, Vivarini dovrà reinventarsi il settore arretrato. Intanto nello spogliatoio c'è gran voglia di regalare al presidente Campitelli i tre punti richiesti, ma ascoltiamo nel servizio il centrocampista Stefano Amadio. Il Rimini intanto viene da un brutto risultato come noi, quindi vorranno fare risultato a tutti i costi e poi comunque hanno delle individualità importanti anche davanti, quindi è una squadra a cui dobbiamo stare molto attenti, molto concentrati in fase di non possesso perché noi poi comunque penso che davanti abbiamo le soluzioni per fare male a tutti e per quanto riguarda le partite fuori casa sicuramente dobbiamo essere più concentrati, sfruttare meglio anche magari le ripartenze, nonostante le squadre ci aspettano, magari quando hai la possibilità di ripartire in contropiede e di trovarle comunque magari messe male bisogna sfruttare più quello. Il modulo ci troviamo bene, sono due moduli che conosciamo, sia questo che il 3-5-2 e quello che ci dice di fare il mister lo facciamo. Dobbiamo pensare una partita alla volta, cercare di fare risultato sia in casa che fuori per risalirlo al più presto e rimetterci nelle posizioni che insomma contano. È chiaro che la penalizzazione c'è, non possiamo far finta di niente, quindi ad oggi abbiamo 9 punti e l'unico modo è vincere per risalire a classifica. Stiamo soffrendo un po' queste ripartenze, stiamo commettendo qualche errore individuale di troppo, purtroppo è una cosa che dobbiamo migliorare in fretta perché comunque andare sempre sotto non è facile, dobbiamo essere più squadra sia quando si difende che quando si attacca e quindi questo col tempo certo si migliora, però è chiaro che non abbiamo tempo, dobbiamo farlo in fretta. I rosso-blu di Perrone saranno di scena sabato pomeriggio contro la Maceratese per dare seguito alla vittoria del derby con il Teramo. Gianmarco Menga. Per l'Aquila marcia di avvicinamento alla trasferta di sabato a Macerata. I rosso-blu proveranno a dare seguito al successo nel derby con il Teramo, al cospetto però della Maceratese vice capolista del campionato. Il tecnico aquilano Carlo Perrone ha provato i suoi uomini nell'amichevole vinta ieri pomeriggio a Villa Sant'Angelo contro il New Team Pizzoli. 6-1 il risultato finale, a segno De Francesco con una doppietta, De Sousa, Stivaletta, Anderson e Ceccarelli. Per il Pizzoli marcatura di Fabrizio Rossi. Il presidente del settore giovanile ha giocato occasionalmente con il Pizzoli per una sgambata ad altri tempi. Sul fronte formazione, in vista di Macerata, Perrone potrebbe confermare il 3-5-2 vincente contro il Teramo. In difesa ha scontato il rientro di Maccarrone, mentre in attacco probabile la conferma del duo Perna-Ceccarelli con De Sousa pronto a subentrare. In mediana possibile una nuova maglia da titolare per il giovane croato Milicevic. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6. L'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.